Ha mitragliato il Portogallo e l'Irlanda, ora l'uragano Ophelia si prepara a punire le coste della Gran Bretagna. Da noi invece il clima carezzevole è decisamente mite e tiene lontano anche solo il pensiero delle alluvioni, ma essere pronti in ogni evenienza è il mestiere dei vigili del fuoco. Anche per questo 26 unità dei comandi provinciali del Veneto si sono date appuntamento in Croazia dal 10 al 13 ottobre, tra loro anche 7 persone e 4 automezzi del comando di Verona. Si trattava di un vero e proprio weekend all'insegna delle esercitazioni europee di protezione civile. Il tutto era inserito nell'ambito delle attività del programma di prevenzione e preparazione risposta alle alluvioni nei Balcani occidentali e in Turchia. Il programma, noto come IPA Fluts, è finanziato dalla Commissione europea con l'obiettivo di aumentare le capacità degli operatori nella gestione del rischio di alluvione a livello regionale, nazionale e ovviamente comunitario. La simulazione si è tenuta nella città croata di Varasdin. Affiancati da altre compagini internazionali, i vigili del fuoco italiani si sono impegnati nelle attività di pompaggio di acqua fino a notte inoltrata per migliorare le prestazioni anche in condizioni ambientali avverse con il peso del buio e della fatica. Si è lavorato gomito a gomito con i team di altri paesi come Albania, Macedonia, Serbia e Germania. La squadra italiana, specialista in questo tipo di intervento, ha avuto il compito di prelevare l'acqua dal fiume Drava per poi pomparla in un corso d'acqua lontano alcune centinaia di metri, aiutando nella simulazione i colleghi internazionali. Il team italiano era incaricato appunto di procedere a un prosciugamento con un modulo ad alta capacità di grossi quantitativi di acqua da spostare, in questo caso in un'esercitazione, da un fiume ad un altro. Quindi sono state fatte prove ed esercitazioni che poi servono in caso di calamità per poter interagire anche con altre nazioni.